Storico incontro sabato prossimo tra la Cina e l'isola di Taiwan. La conferma è arrivata nella notte tra martedì e mercoledì dall'agenzia di stampa ufficiale cinese. Si tratta del primo incontro tra i leader dei due paesi, il cinese Jinping e il taiwanese Yang Yu, dai 1949. Tra l'altro, il portavoce presidenziale di Taipei ha fatto sapere in un comunicato che si incontreranno per uno scambio di idee sulle relazioni tra i due paesi. La notizia ha suscitato forte dissenso negli ambienti politici di Taiwan e il maggiore partito del paese ha chiesto al presidente di motivare la sua decisione.